Cambiamo argomento, un'interditiva antimafia per un appalto da oltre un milione di euro per il restauro di una scuola a Treviso ad emetterla alla prefettura che ha così bloccato i lavori. Davide Calimani. Un appalto vinto alla ribasso con un'offerta del 21% inferiore rispetto ai concorrenti. 262 mila euro in meno della base d'asta di un milione e 260 mila euro. A vincere la gara per il restauro della scuola elementare Don Milani di Treviso, il consorzio stabile LM Group, ora bloccata dalla prefettura con un'interdittiva antimafia. Ricordiamoci che c'è anche, come necessariamente non sono stati commessi dei reati, ma possono sussistere delle relazioni o delle cointeressenze con soggetti che hanno avuto a che fare con i reati di tipo mafioso. All'appalto hanno partecipato 85 aziende, 43 delle quali sono state escluse poiché presentavano delle anomalie. Nessuno invece ha avuto nulla da eccepire sul consorzio trevigiano. È arrivata questa interdittiva, il comune di Treviso naturalmente si è subito attivato come da norma e abbiamo provveduto, non appena è arrivata l'interdittiva, a riscindere il contratto. Quindi la ditta che è stata oggetto dell'interdittiva non è più parte contrattuale, poi si applicheranno le normali regole sugli appalti per far subentrare qualcun altro e terminare l'opera. Ad amministrare la società una candidata nella lista civica del sindaco di Treviso Mario Conte alle ultime elezioni. Sindaco che nega ogni rapporto tra il comune e l'amministratrice. La signora, interpellata, ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni in merito.